Benvenuti carissimi amici, devo assolutamente ringraziare tutti voi, voi che ci seguite attraverso la tv e attraverso il web, ma soprattutto che colloquiate con noi attraverso i nostri social. Grazie perché ci dimostrate tutta la vostra approvazione, la vostra presenza, la vostra amicizia. Noi in questo momento così difficile per tutti noi, la nostra vita è toccata da momenti non soltanto di malinconia, ma sempre di più da momenti di tristezza e di sconforto. Noi abbiamo deciso di proseguire con la nostra trasmissione come sempre, perché vogliamo davvero in questo momento così difficile per tutti noi comunque stringerci, sognando un po', regalandoci un po' di serenità, regalandoci un po' di divertimento e chissà che poi non sbocce anche un attimo di allegria e che faccia passare questa tristezza di fondo, che comunque abbiamo in ognuno di noi visto ciò che appunto si vive in questo momento. Per questo motivo noi continueremo a proporvi dei bravissimi artisti e i videoclip delle nostre scuole di ballo, affinché voi nei momenti che avete a disposizione ora purtroppo tantissimi in casa potete magari imparare tantissime bellissime coreografie e magari registrarvi col vostro cellulare e mandarcele o magari il vostro filmato fatto al cellulare potete scambiarvelo con gli amici. E appunto volevo parlarvi di Enerjoy, non abbiamo rinunciato all'evento, l'abbiamo soltanto posticipato, ovviamente a quando sarà finito tutto e come dicevo prima potremo ritrovarci, potremo uscire di casa, ritrovarci per strada e ritrovarci di nuovo insieme e credo che il festeggiamento più grande alla vita sia poi trovarsi a ballare tutti insieme. Devo dire un'apprestatissima comunicazione che è arrivata dalle nostre scuole di ballo, le scuole con le quali collaboriamo, che partecipano ad Enerjoy, sta accadendo questa cosa molto bella. I maestri realizzano le coreografie da soli in casa, si filmano, poi mandano il filmato a tutti i ragazzi e ragazzi insieme alle loro famiglie, ciascuno nella propria casa impara al ballo e quando finirà questo momento e potremo ritrovarci per strada a condividere insieme emozioni e gioie, tutti sapremo ballare gli stessi balli e sarà forse quasi un inno alla vita, al tornare a divertirsi, a vivere, a ballare, perché come dico sempre la musica e il ballo sono la vita. Pertanto io ringrazio tutte le scuole che stanno facendo questo grande lavoro a casa, questi maestri coreografi che hanno avuto questa bellissima idea e quindi Enerjoy non si è fermato, anzi mi stanno aggiungendo dalle scuole di ballo i titoli delle canzoni che hanno scelto, sulle quali realizzeranno le loro coreografie. Se anche voi siete un gruppo di amici che pensate di poter partecipare quest'anno ad Enerjoy, non dovete fare altro che scegliervi una canzone, segnalarcela subito a infochiozzolapassessuoni.it per controllare che non sia stato già depositato da un'altra scuola. Poi avrete tutto il tempo di realizzare sopra una coreografia, una coreografia fatta da voi, che venga proprio dalla vostra inventiva, dalla vostra creatività e quindi deve essere nuova e inedita e deve essere assolutamente facile, perché Enerjoy il ballo che unisce nasce come contest di avvicinamento al ballo per tutte quelle persone che non hanno mai avuto l'opportunità di farlo. Per cui se i balli sono semplici, sono accattivanti, divertenti ma facili da realizzare, sempre più persone si avvicineranno al mondo del ballo e della musica. Per cui se volete partecipare ad Enerjoy, infochiozzolapassessuoni.it, tutte le informazioni sul nostro sito www.passessuoni.it nella sezione Enerjoy. Vi aspetto numerosi, perché quest'anno il ricavato dell'evento, tolto ovviamente le spese di organizzazione, verrà devoluto ad un'associazione dedicata alla ricerca e alla solidarietà e quest'anno l'abbiamo già individuata e l'associazione insieme a te, avete già conosciuto la fondatrice che è Deborah Donati in questa bellissima serie di piccole e di micro interviste dove ci racconta la storia dell'associazione, di come è nata e di che cosa fa. Vi ricordo di iscrivervi al nostro canale youtube per poter seguire la nuova puntata in diretta e in anteprima col vostro cellulare e ovviamente non perdete la programmazione sulla rete delle nostre tv amiche. Io vi ringrazio per essere stati con noi, per aver condiviso questo momento di serenità insieme, vi aspetto al prossimo appuntamento sperando che passiate una settimana di serenità vicino ai vostri affetti familiari e spero il più lontano possibile dalla tristezza e dalla malinconia. Vi mando un bacio, vi abbraccio, quanti siete? Ciao!